Dove sei finita? Vedi sono qua, mi hai venito? È uscita? Sono dovuto andare fuori perché il Gino vuole il pesce, non mi fanno il pesce perché ho il colesterolo alto e non fanno torno il pesce ora qua. Il tassico è che il Pessaroli ha messo la macchinetta con l'elettronica. Non ho capito bene chi c'è lì vicino casa. Pessaroli? Vediamo come funziona la macchinetta, vediamo un po'. Buonasera Sioranella, benvenuta alla macchinetta del pesce. Mi scuso in anticipo per l'odore da Cavassino. Eh infatti se sente un pochettino e potrei dare una bella lavandina comunque... Come funziona qua? Che pesce vuole Siora? Eh non so mica che pesce che avevo, le parmigino. Abbiamo pesci di acqua dolce, pesci di acqua salata, pesci rossi, pesci cola, pesci misti, cavassini, cavassoni, abbiamo il tombon, il tonjon, il tombin, il tontolon, le carpe coi bisi, le carpe coi busi, le carpe coi tacchi, e il lucio con la polenta, e il lucio con le patate, e il lucio battisti, e il lucio comesteto. Allora che pesce vuole Siora? Ma vorrei... Mi dà una carpa, una carpa palmezzino dai, una carpa. E basta, che piocciosa, taccagna, bracino corto, tiranna Rex. Come? Come tiranna Rex? Va bene dai, ma fa così, che metta solo al conto due cavassini dai che metto in freezer. Ok allora ci zontiamo anche due cavassini. Bene, e cosa cosa fa? Inserire il denaro e ritirare il prodotto. Sono 42 euroi. Cosa? 42 euroi? Si dei ladri? Aspetta un attimo, ho solo 50 euro. Però si dei ladri era. Guarda che i bagatini, le canne da pesca e il pensionato che ha pescato i due cavassini. Bisogna che li pago. Non me li tirano mica nel copino. Quella è vera però, insomma 42 euro, vabbè insomma... Metto qua, mi dà sì il resto era per piacere. La macchina non dà resto ne manco se ti ciucci i deoloni dei piedi, ti smorseghi una reccia, ti lecchi la fronte e dopo... Ti lighi le scarpe coi denti e te le slighi col naso. E come fa a far tutte quelle robe lì? Non sto mio un coso cortozionista? Vabbè dai, e dove... Ah eccolo qua il pesce, vabbè dai. Tanto col pesce e palmegino, arrivederci era, grazie. Arrivederci e salutami tizio. Caio, Caio, Sempronio e tutti quei quattro cialtroni della domenica sera e dici a Gigi Vesentini che venga fin qua perché ho finito i bagatini. E se può venire anche Marino Marangoni così io ci metto il pesce e lui le patate. Vabbè dai, non ho visto adesso. Beh, grazie, arrivederci. Fantastica Mella! Grazie.